ciao a tutti siamo qui per presentarvi il nostro tg dell'oratorio il nostro tg qua dove qua sta per qua qua tanto non ci si può muovere dove qua sta per quarantena dove qua sta per quando finisce sta quarantena dove qua sta per qualità di vita in questo isolamento dove qua sta per quadricipite muscolo che sicuramente andrà in atrofia dove qua sta per quattro occhi a forza di leggere gli occhiali serviranno a tutti dove qua sta per 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 quaglia quaglia se ci sta bene lasciamo stare saranno gli effetti del troppo tempo in casa